Siamo ora con Nicola Petraroia che è il coordinatore degli operatori del comune di Perrazzano. Nicola, è un lavoro certamente intenso il vostro, abbiamo raccolto tante notizie sia dal sindaco che da Maria. Come si svolge il vostro lavoro in realtà? Allora, noi siamo una squadra composta da sei operatori e la mattina, il martedì, iniziamo alle 5 del mattino e gli altri giorni alle 6. Abbiamo appuntamento qui al centro di raccolta dove ognuno parte con il mezzo. Siamo tre squadre da due, la zona quindi del territorio è diviso in tre zone, zona centro storico, zona nuovi insediamenti e zona rurale. Raccogliamo il rifiuto della giornata e li portiamo qui al centro di raccolta nella pressa. Oltretutto il giovedì siamo organizzati anche per fare dei rifiuti a domicilio gratuiti dove il cittadino chiamandogli all'ufficio prenota il ritiro degli incombranti. È un lavoro, come diceva lei prima, abbastanza importante ed è bello perché teniamo cura al nostro paese. All'inizio è stato un po' difficile ma adesso siamo entrati in perfetta sintonia con i cittadini ed è stato un percorso iniziato insieme, abbiamo imparato insieme, noi da loro e loro da noi. Adesso c'è una conoscenza da parte del cittadino di come differenziare, molto molto importante e agevola anche il nostro lavoro. Quindi è bello sottolineare che questi risultati che sta raggiungendo il comune di Ferrazzano e anche il comune di Mirabello è dovuto alla squadra ma soprattutto è dovuto ai cittadini perché quando i cittadini vogliono tutelare e curare il loro ambiente e c'è come priorità il loro territorio, le cose si raggiungono ottimi risultati. Grazie